ho montato il motore elettrico dentro un tubo di plastica ci ho collegato il filo adesso o lo colleghiamo a delle batterie a questo alimentatore proviamo con l'alimentatore il motorino gira abbastanza velocemente ho montato sopra il motorino il dischetto con la carta abrasiva incollato con la colla a caldo ho collegato tutto l'alimentatore adesso basta accendere la ciabatta spegnere è la nostra super smerigliatrice funziona alla perfezione il motorino il motorino il motorino il motorino